Siamo arrivati parlando di calcio mercato al momento della raffica giornaliera. Mario, tante operazioni, alcune già definite, altre che saranno definite nelle prossime ore. Partiamo dalla Serie B e dal Bari. Ovviamente ci sono tante trattative in piedi, portate avanti dal DS Ciro Polito. Ieri c'è stata la definizione e l'ufficializzazione dell'arrivo di Marco Lulic per il centrocampo. Oggi invece ci riferisce il sempre puntualissimo Luca Guerra. Potrebbe essere una giornata importante nella trattativa che potrebbe portare a Bari l'attaccante classe 2001 Yaya Callon. Il calciatore della Sierra Leone non ha trovato spazio nella prima parte di stagione in Serie A con la maglia del Verona, che è club proprietario del cartellino e dunque avrebbe manifestato la volontà anche di scendere di categoria. Poi capiremo se effettivamente sarà il Bari a spuntarla. Scegliamo in Serie C perché Nicola Bizzotto firma nel pomeriggio l'accordo per il ritorno al Monopoli, per il ritorno al Veneziani, dopo la breve parentesi a Brindisi. In uscita sempre per i Messapici dal Brindisi si trasferisce a titolo definitivo all'Ancona Federico Moretti. Parliamo in questo caso di un attaccante classe 94. Piccè, eccolo qui in foto, già ufficializzato Moretti con la maglia dell'Ancona. Capitolo Piccerno perché piace al Giuliano, a Bù Diop, attaccante in forza ai Lucani. Sempre per quanto riguarda il calciomercato delle realtà di Basilicata di Serie C, Manuel Gasparini, portiere, si trasferisce in prestito al Pescara. Giocherà dunque nella girone B di Serie C nella seconda parte di stagione. Scegliamo in Serie D perché c'è una Barletta molto attivo e con tante notizie. Vi avevamo raccontato in precedenza e vi abbiamo fatto ascoltare soprattutto le prime parole dei tre nuovi arrivi Capone, Basanissi e la Monica. C'è un'uscita praticamente certa. Mauro Marconato non giocherà nella Barletta, nella seconda parte di stagione. Molto, molto probabile per lui la firma con il Casarano. C'è accordo totale con il club del presidente Maci. Ngom non si trasferisce da nessuna parte, almeno per il momento, ma resta fuori rosa per motivi disciplinari. Dunque non sarà a disposizione per la gara di domenica contro la Paganesia. Mentre, da quello che ci riferiscono, salvo clamorosi colpi di scena, il Tato Diaz resterà un calciatore della Barletta sino al termine della stagione. In uscita invece Vincenzo Provitolo che ha già raggiunto l'accordo con il Barletta per la rescissione. Poi capiremo con chi firmerà, lo ricordiamo. Provitolo ha cominciato la stagione a Nardosi e trasferito a Barletta. Ora di fatto è a caccia di una nuova squadra. Il Barretta ha già individuato in Daniele Bufano, il sostituto di Provitolo. C'è accordo con l'ex portiere del Gladiator, abilitato nella prima parte di stagione, per una breve parentesi, con il Lamezza Terme, come sapete, squadra che poi è stata esclusa dal campionato. La Fidelisandria ieri ha firmato, ma ovviamente non c'erano più sorprese, perché c'era accordo tra le parti. Crocefisso Cancelli, eccolo qui in foto con il presidente Giuseppe Di Benedetto, gran rinforzo a centrocampo per la Fidelisandria. Sarà a disposizione già per la trasferta di Nardò, dove Cancelli si presenterà al Giovanni Paolo II da ex, perché ha giocato proprio con la maglia dei Neretini. A proposito di Nardò, fatta per la tagliata, l'avevamo già annunciato ieri, fatta anche per Enyan, i due volti nuovi che arrivano dalla Virtus Francavilla. Enyan però verrà ufficializzato, ci dicono, dopo l'11 di gennaio, perché ha giocato con la Virtus, bisogna far trascorrere 30 giorni dall'ultima apparizione in Serie C, prima di essere a disposizione per il campionato di Serie D. Novità tra i pali in arrivo anche per il Nardò, si tratta di Della Pina, che ha militato nella prima parte di stagione, sempre nel Gironi H di Serie D con il Matera. Eccolo qui, Niccolò, Della Pina. Chiudiamo con il Bitonto, fatta praticamente per Stragapede, lo abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, e ora pare che ci sia, tra virgolette, un all-in su Tiziano Prinari. Il Bitonto ci sta provando con Tiziano Prinari, nella prima parte di stagione in forza al Fasano, potrebbe essere rinforzo per l'assortimento offensivo della squadra Nero Verdi, che lo ricordiamo ha perso Emanuele Tedesco, ieri è arrivata all'ufficialità dell'accordo con il Martino. Chiudiamo con l'eccedenza, chiudiamo con il Molfetta, perché è praticamente fatta per un rinforzo per il parco avanzato. David Caldarulo, esterno offensivo 2003, cresciuto nella primavera del Bari, arriva dalla pianessa e dal campionato di Serie B.